Cari amici di Autodudget 2, oggi proviamo la Porsche più maschia, dura e cruda, con ben 375 cavalli e motore centrale. Guidare la Cayman GTS, anche quattro cilindri 718 è una delle esperienze più emozionanti, è un'auto straordinaria, ha una coppia in basso e una potenza in alto che danno entusiasmo nella guida, veramente una delle sportive più belle da guidare. E la stabilità poi di una coupé a motore centrale permette performance eccellenti anche ai piloti meno esperti. Si può arrivare in curva frenando a metà curva e riaccelerare senza timore che la vettura abbia reazioni scomposte. Solo un leggero sovrasterzo, ben dominabile quando si esagera. E comunque con i controlli di stabilità inseriti la sicurezza è garantita. Certamente in pista si possono anche disinserire e fare un po' di drifting, ma che scopo ha? Anche Helen Prost diceva che le traiettorie pulite sono le più efficaci e anche in questo caso è vero. Insomma, un'auto con cui ci si può togliere ogni soddisfazione. Ascoltiamo ancora per un po' il suo rombo, che anche questo è molto bello nonostante qualcuno rimpianga il 6 cilindri. Ascoltiamo ancora per un po' il suo rombo. E anche all'esterno, chi la vede passare si può emozionare perché quello scoppiettio, il rilascio programmato elettronicamente, è un'emozione e una bellezza anche quella. Ascoltiamo ancora per un po' il suo rombo. E arrivati in città, beh qui le sospensioni sportive e qualche problemino alla schiena lo danno. D'altronde è una GTS, la versione più sportiva della vettura. Certamente con le sospensioni in comfort qualcosa migliora, però non aspettiamoci la comunità di una berlina. Insomma, è un'auto sportiva e tutte le regolarità stradali ve le sentite, nel fondo schiena e nella schiena. Però, poi, quando si arriva ai semafori, ci si diverte. E quando si arriva in posti come Tiny Cars, l'ammirazione è sconfinata. Eccola! E' scoppiato un po' il manettino della Ferrari, perché si può settare normale. In Sport il rombo si mette automaticamente la barbita sportiva. E in Sport Plus si ottiene il massimo della potenza. Soprattutto con il tasto MODE si possono ottenere 20 secondi straordinari. Ma ora vediamo una sorpresa. Ciao a tutti, io sono Andoli Battaglia. Questa è una Porsche fantastica. Questo è il mio ultimo disco registrato live durante un concerto bellissimo che ho fatto a Bellari e Gela Marina. Con tanti ospiti che sono Mario Biondi, Luca Carboni, Gile D'Alessio, Marco Masini e Silvia Mezzanotte. Mietta, Enrico Ruggeri, Maurizio Sogliere e Fio Zanotti. Io adesso vi saluto, metto in moto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.